gloria al signore leggiamo con l'aiuto del signore nel capitolo 8 ai romani capitolo 8 ai romani iniziamo la lettura del verso 5 poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne ma quelle che sono secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte ma ciò a cui lo spirito all'animo è vita e pace poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro dio perché non è sottomesso alla legge di dio e neppure può esserlo e quelli che sono nella carne non possono piacere a dio ora voi non siete nella carne ma nello spirito seppur lo spirito di dio abita in voi ma se uno non ha lo spirito di cristo egli non è di lui poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di dio sono figlioli di dio poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo abba padre lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di dio e se siamo figlioli siamo anche eredi eredi di dio ecco eredi di cristo seppur soffriamo con lui affinché ci soffermeremo cari negli ultimi versi dal quattordicesimo il resto di questo capitolo parla del cammino cristiano cammino secondo la carne o secondo lo spirito e ma prima di arrivare a questo cari vogliamo considerare che per camminare per lo spirito bisogna essere rinati dallo spirito del signore è vero non si può essere figlioli di dio e voi credo siete tutti d'accordo con me anzi con le sacre scritture non si può iniziare la vita nuova la vita dello spirito se non siamo nati di nuovo e questa mattina lo spirito santo vuole cercare in mezzo a noi proprio quelle persone che non sono nati a vita nuova stanno camminando come hanno sempre camminato frequentano forse una chiesa sono venuti qui a questo raduno perché sono stati invogliati a venire ma ancora non conoscono la vita dello spirito non sanno cosa significhi vivere una vita nuova la vita dello spirito inizia quando la persona accetta gesù nella propria vita egli è venuto dice nel primo capitolo di giovanni egli è venuto in casa sua ed i suoi non lo hanno ricevuto ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di dio allora si tratta solo di un atto di accettazione io accetto il figliolo di dio come dono di vita eterna chi ha il figliolo alla vita chi non ha il figliolo non ha la vita ma l'ira di dio dimora sopra quel tale se abbiamo accettato gesù come nostro salvatore allora stiamo vivendo la vita dello spirito una vita nuova e non c'è bisogno che gli altri ce lo dicono ma noi lo sappiamo perché noi la viviamo questa vita nuova noi sappiamo che abbiamo nuove ispirazioni in noi dal momento in cui cristo è venuto ad abitare nel nostro cuore e quando parliamo di cristo non parliamo di una persona qualcuno mi ha detto ma quanti cristi ci sono se tutti tutti avete cristo nel cuore ma cristo è uno ma il suo spirito è sparso nei nostri cuori e tutti quelli che hanno lo spirito di cristo sono figlioli di dio amén gloria al signore tutti coloro che hanno questo spirito e lo spirito di cristo non è a misura lo spirito di cristo può coprire l'universo e quindi noi siamo immersi siamo battezzati in questo spirito per formare un unico corpo e mi riferisco nonno al battesimo nello spirito santo quello viene dopo ma quando abbiamo accettato gesù e gli ci ha battezzati nel suo corpo pensavo se fossimo tutti dei vasi come abbiamo cantato e ci immergessero nell'oceano a tutti noi saremmo tutti ripiene delle acque del mare ma nello stesso tempo saremmo anche immersi l'acqua in noi e noi nelle acque così lo spirito di dio è dentro di noi cari nel signore e se abbiamo lo spirito di dio siamo figlioli di dio dice il versetto 14 poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di dio sono figlioli di dio la nascita la crescita e anche il cammino dei figlioli di dio credo che noi siamo su questa fase il cammino dei figlioli di dio condotti dallo spirito di dio e dall'idea di una persona che si prende per mano da un'altra persona per essere guidata accompagnata avete visto mai un padre un genitore che prende i figlioli per mano e le accompagna all'asilo così siamo noi condotti dallo spirito di dio poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di dio sono figlioli di dio significa che anche quelli che una volta sono nati di nuovo debbono necessariamente essere condotti dallo spirito del signore altrimenti possono rimanere per strada smarrirsi perdersi andiamo oltre poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo abba padre e ascoltate lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di dio c'è una testimonianza interiore io non so come spiegarvelo ma io so come spiegarvelo a me stesso io so che c'è questa voce intima dello spirito di dio che parla al mio spirito e mi dice tu sei un figliolo di dio e quando certe volte sto per fare delle cose che non dovrei fare mi sento dire ma tu sei un figliolo di dio lo vuoi capire o no lo vuoi capire ricordatevi c'è uno spirito c'è lo spirito santo in noi che ci avverte tu non sei come gli altri tu sei un figliolo di dio gloria al signore e un figliolo di dio deve onorare il padre è chiaro tu sei un figliolo di dio dice lo spirito santo che è in noi e il verso 17 ci dice e se siamo figlioli ascoltate questo questo versetto esprime due volte il condizionale e se siamo figlioli siamo anche eredi vi voglio fare rallegrare e se siamo figlioli siamo anche eredi eredi di dio e coeredi con cristo siete contenti io sono contento appartenere a dio mio padre e sono contento perché davanti a me c'è una grande eredità una grandissima eredità immacolata immarcescibile incorruttibile conservata nei cieli per me ma anche per voi gloria al signore questo è importante fratelli ma è importante qui attenzione non andiamo oltre se prima non abbiamo realizzato il primo passo nonno e dobbiamo illuderci è scritto in varie capitoli della Bibbia potrei leggere qualcosa ad esempio i pericoli che ci sono che si frappongono fra noi e l'eredità e c'è le opere della carne sono manifeste fornicazione impurità dissolutezza e idolatria stregonarie inimicizie discordie gelosie ire contese divisioni sette invidie ubriachezze gozzoviglie e altre simile cose circa le quali io vi prevengo come anche vi ho prevenuti che quelli che fanno tale cosa non erederanno il regno di Dio potete notare sono cose che danno un po' di divertimento un po' di piacere non sono cose grossolane l'impurità le contese le ire le inimicizie guardate lo dice in plurale appunto perché sono cose che si commettono del continuo basta fare l'abitudine forse una volta no ma proprio nel cammino della fede dobbiamo stare molto attenti gloria al Signore ti vorrei sollecitare questa mattina vorrei sollecitarti di farti trovare dallo Spirito Santo benché lo Spirito Santo non è lontano dal tuo cuore egli ti vuole portare a Cristo egli ti mostra Cristo egli ti vuole convincere che tu sei perduto sei perduta senza di Gesù non ti dice solo sei perduta o sei perduto e ti lascia così ma egli ti mostra il rimedio Gesù Cristo qualcuno mi ha detto oh come la fate facile voi le cose e meno male che sono così facili come le fate facili certo il Signore sei salvato credi in Gesù e sarai salvato così ha stabilito nonno Rauti ma lo ha stabilito il Dio perché desidera che tutti gli uomini siano salvati e non poteva e non poteva fare qualcosa di difficile gli uomini hanno hanno fatto cose difficili gli uomini hanno cercato di fare capire che non è così difficile essere salvati ma il Signore ha preparato un piano che tutti gli uomini che tutte le persone le creature che sono nel mondo possono ottenere la salvezza per mezzo di Gesù il Salvatore del mondo ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo grazie Signore grazie Signore solo i figlioli di Dio hanno l'eredità ve lo voglio dire solo i figli di Dio sono nati di nuovo in vista all'eredità chi non è nato di nuovo non può vedere chi non è nato di nuovo non può vedere è cieco per le cose spirituali è legato schiavo alle cose della vita presente al materialismo come quel figlio come quel giovane ricco che il Signore gli mostrava voleva voleva farci alzare il capo a guardare i tesori eterni nel cielo ma lui è rimasto legato a quelle ricchezze cari nel Signore ricordatevi che Mosè in Egitto diventato grande rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone perché eleggendo di essere vetuperato con il popolo di Dio anziché di godere per breve tempo il godimento di peccato non poteva vivere i due mondi non poteva godersi l'Egitto e godersi anche le cose eterne del cielo egli ha dovuto rifiutare per godere i tesori eterni che Dio ha in serbo per coloro che lo amano gloria al Signore nessun figliuolo nessuno che non sia figliuolo di Dio può farsi avanti in quel giorno e dire io voglio l'eredità no il figliuolo prodico disse al padre dammi quello che mi aspetto perché era suo figlio Abramo quando si lamentò con Dio disse che cosa ne ho io Signore e tu non mi hai dato figliuoli i miei beni il mio patrimonio andrà a finire a uno schiavo e Dio gli parlò e gli disse no Abramo non sarà uno schiavo il tuo erede sarà colui che nascerà dalle tue visceri non uno schiavo non un estraneo ma solo i figliuoli possono avere questo diritto solo i figliuoli ti consiglio questa mattina vuoi diventare un figliuolo di Dio ah vuoi essere tu un figliuolo di Dio se ancora non ti senti non senti che lo spirito di Dio testifica dentro di te e ti dice tu sei un figliuolo di Dio se questo spirito non lo avverti se questo spirito che è lo spirito santo non te lo attesta che sei un figliuolo di Dio lo puoi diventare prima che questo servizio finisce subito ora se tu gli apri il tuo cuore a Gesù e lo fai entrare riceverai il diritto di diventare figliuolo di Dio avrai davanti a te un'eredità sei ricco sei ricco non pensare a quelle ricchezze di tuo padre qui non pensare a quello che possiedi forse al tuo libretto di risparmio che hai in banca pensa alle ricchezze eterne l'Apostolo Paolo sulla via di Damasco era orgoglioso era quello che era aveva un vanto faceva un vanto della sua carriera della sua brillante carriera si andava a imprigionare i cristiani andava facendo del male a coloro che lo davano il Signore e quando nel capitolo 3 dei filippesi fece quella dichiarazione se qualcuno ha di che vantarsi secondo la carne io avrei molto di più e fa un elenco di tutti i suoi pregi tutti i suoi titoli e alla fine dice ma e mi piace questa svolta ma di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù reputai tutte queste cose essere spazzatura l'hai fatto anche tu lo vuoi fare vuoi volgere lo sguardo a Gesù stasette mattina chiudiamo gli occhi abbassiamo il capo a Gesù tutti i suoi la conoscenza di quei qui non la conoscenza di o non Grazie a tutti.